Non è mai facile raccontare in pillole un film di Quentin Tarantino, nemmeno per la vostra contesme chuchu che si sa al dono della sintesi. Nelle due ore e quaranta minuti dell'ultimo nato del famoso regista ritroviamo tutta la sua poetica, una sorta di riassunto dei suoi film. Voilà, potremmo definire Once Upon a Time in Hollywood del 2019 l'opera Omnia. In un rimando continuo di pertesti e metalinguaggi, di simboli e di icone, il vero protagonista è le cinema. Facciamo un passo indietro. Natale è andato, sono qui a bere champagne in compagnia del mio ambrosio. È il 28 dicembre e penso che in questo momento, 125 anni fa, al Gran Café in Boulevard de Capicina a Paris, si stanno proiettando i primi dieci film della storia. Ah oui, perché ci sono tutti gli elementi per chiamarlo cinema. Una nuova tecnologia, il cinematograph. Un soggetto produttore, le Frères Lumière. Il biglietto di un franco acquistato da un pubblico pagante. Uno spazio in grado di ospitare una audience collettiva. Ne ha fatto di strada questo mezzo di intrattenimento delle masse prima di arrivare a quello che Tarantino ha rappresentato in Once Upon a Time. Eppure anche qui vediamo l'ultima coda di un cinema andato, perduto, in favore della modernità e dei lustrini. Trascinati dalla sensazione di un'enorme presa in giro all'industria più potente del mondo, che passa inesorabile dal mito degli spaghetti western alla New Hollywood, continuamente abbagliati da un citazionismo postmoderno ai limiti della parodia, avviluppati nella cronica dell'omicidio Tate da parte della Manson Family, fatto che ha scosso americani e star di Bel Air. Siamo in ermi mentre assistiamo al declino dell'attore Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, e di tutto un mondo ormai vecchio di fare cinema. E il fatto sconcertante è che perdiamo la nostra capacità emotiva, talmente forte è la domanda, c'è vero? Nel continuo reinventare la storia per renderla più hollywoodiana, più vicenda da Bel Air, Tarantino prende in prestito generi e forme della cultura di massa che si ibridano tra loro, creando comunque momenti di splatterra capriscianti al pari del reale. C'è chi ha gridato a un Tarantino in pensione dopo Pulp Fiction, e sarà lo champagne, sarà la compagnia di Ambrosio, ma la vostra contessa plaude a un artista che nel ricreare linguaggi e mondi alternativi, pur mantenendo il solito rigore stilistico, non ha perso la capacità di plasmare l'immaginario.